Questo lavoro nasce da una situazione generale dell'artista che ha sempre più difficoltà a far capire che cosa faccia e quindi si trova sempre più isolato, sempre più in una condizione straniente e quindi nasce da una situazione di disagio. Non è un testo che parla di cose esaltanti, diciamo, ma parla di un percorso difficile perché le cose stanno cambiando molto, sono molto cambiate e gli spazi di riflessione, di discussione, anche di pensiero su ciò che deve essere un oggetto d'arte e per quanto mi riguarda uno spettacolo dovrebbe rientrare in questa sfera, sta diventando sempre più difficile. E quindi da questa fatica, da questo anche, se si vuole, dolore, nasce l'idea di questo spettacolo. Nasce appunto dal fatto di un'impossibilità, che è poi rappresentata anche dal personaggio principale, di poter continuare su una determinata strada che lo ha accompagnato per molto tempo, che è quella di fare la propria attività artistica in un determinato modo. Gli si frappongono tutta una serie di ostacoli che lo mettono in grande difficoltà e quindi comincia, lo spettacolo, diciamo, comincia che lui è in un punto di riflessione di questa difficoltà che lui prova, di questo disagio, di questo suo sentirsi non più nel posto giusto, al momento giusto, nella situazione giusta, come lo fanno sentire anacronistico tutti questi avvenimenti. E ha comunque nella sua intimità, nella sua vita privata, nella sua sfera privata, un punto di approdo a una compagna, a una vita privata che comunque lo sostiene. Senza raccontare troppo comunque un inconveniente, diciamo così, un incidente, gli sottrae anche questa possibilità e quindi gli si spalanca appunto una voragine sotto i piedi che lo fa entrare in un percorso molto più complesso e deve riuscire, capisce che deve riuscire a, in una forma metaforica ovviamente, a morire per poter rinascere. Quindi deve compiere tutto un percorso che gli permetta di trovare un nuovo punto d'approdo, una nuova destinazione, un nuovo modo di esistere e di vivere. Lo spettacolo parla proprio di questo momento, in cui lui cerca questo passaggio, non del dopo, un pochino del prima, ma non sicuramente del dopo, che resta misterioso, come lo è per tutti noi. Quindi la voragine, che è una metafora appunto di questo punto di passaggio, di questa porta, di questo ingresso, ma anche di questa uscita, crea il contesto di tutta l'avventura di questo personaggio, che è affiancato da un altro personaggio, o meglio da più personaggi, ma principalmente da un personaggio che lo aiuterà, o che lui si convince che lo deve aiutare a fare questo passaggio metafisico, cioè di rientrare nella voragine da cui è uscito, perché tutti noi veniamo da un non so dove che non conosciamo e torniamo in un non so dove che non conosciamo altrettanto. Però nell'idea metaforica è quella anche della Fenice, della continua rinascita, del concludere una parte per poi cominciare, ma per fare questo bisogna mettere insieme tutta una serie di elementi, di dispositivi e riuscire a compiere il primo passo, che è quello dell'annientamento, cioè di uscire dalla situazione in cui si è abituati a vivere, in cui si è, e in cui tutto ad un tratto non ci si sente più a proprio agio. Quindi è la storia di un uomo che cerca di fare questo, e cerca anche in modo abbastanza disperato di farlo, perché non è facile abbandonare e prendere la decisione di abbandonare tutto ciò per cui si è vissuto per molto tempo, e di ricominciare da un'altra parte. Ancora ci sono dei lacci che ti trattengono, delle cose che ti, dei sentimenti che ti legano, e tutto questo deve essere reciso in un qualche modo, ma anche in una dimensione di incognita e quindi spaventosa. E quindi è come essere sul punto di fare un tuffo da un'altezza molto alta ed essere lì in quel momento in cui dici mi lancio, non mi lancio, e speri che qualcuno, magari un amico, una persona amica, ti dia quel colpetto per farti fare il salto e cominciare a volare, poi entrare nell'acqua, e una volta entrato nell'acqua, sentire di essere in un altro posto, in un'altrove, forse poi riemergere. E tutto cambia. Lo spettacolo parla di questo, in sostanza, quindi è una grande metafora, che poi è realizzata, se si vuole, in modo apparentemente naturalistico, ma si svolge tutto in un ipotetico futuro, quindi potrebbe anche essere uno spettacolo di fantascienza, un racconto di fantascienza. Ma una fantascienza che si sviluppa in un tempo lontano, in un ambiente che possiamo solo immaginare, dove alcune cose vengono rievocate come degli antichi ricordi di una civiltà che loro stessi conoscono solo per dei reperti che hanno vicino, tipo un pezzo di giardino, un album fotografico o cose di questo genere, che gli ricorda che c'era un altro mondo prima di cui loro non hanno un'esatta conoscenza, i personaggi che agiscono sulla scena. E questo è importante, perché anche questa distanza non è solo un escamotaggio fantascientifico, giusto, ma è proprio per sottolineare l'idea di sradicamento, che quando si è sradicati da un passato, da un percorso, quando la vita ti interrompe e ti mette solo davanti a un futuro senza un collegamento col passato, tutto ciò che viene dal passato viene assolutamente reciso o buttato via come inutile, diventa ancora più difficile proseguire, perché hai dei punti di riferimento che vengono da un altrove che non viene più considerato come un valore e questo è molto disorientante. Io credo che sì, questo spettacolo è una metafora perché è anche una metafora dell'oggi, che io personalmente vivo, sento questo disagio, tutto ad un colpo mi sento anacronistico, cioè fuori dal tempo, fuori da questo tempo, non sento più questa connessione, è come se non fossi sincronizzato e quindi ho scritto questo lavoro per parlare di questo, come sempre faccio, d'altra parte perché non riesco mai a non partire da un dato personale, da qualcosa che posso conoscere profondamente, nella quale mi posso sprofondare completamente e che posso condividere così in tutta sincerità e tutta onestà con lo spettatore che viene a vedere il lavoro. Questo mi permette sempre di andare molto in profondità, che per me è una cosa fondamentale. Questo per esempio, per fare un esempio, è uno degli anacronismi. Oggi andare in profondità non è una cosa ben vista, questo io lo devo dire, è sempre una difficoltà. Sprofondarsi nelle cose, smontarle, trovarne le difficoltà, vederle in profondità, è problematico, è faticoso, è conflittuale, ma è, a mio parere, il percorso della conoscenza. Invece, spesso mi trovo davanti ad una preferenza per la superficialità, per ciò che è veloce, che si consuma rapidamente, che non è impegnativo e che quindi permette alle persone di stare insieme su un livello, diciamo così, più semplice, apparentemente, ma che poi, questa è la mia sensazione, ci scollega, ci fa sentire scollegati, non ci fa sentire radicati da qualche parte. quindi è una semplicità ingannevole. Ecco, il personaggio di questo lavoro è legato a questo tipo di sprofondamento, di ricerca, e non sa più dove trovare compagni per fare questo percorso. è finito poi per essere isolato. Ecco, e questo è la metafora del racconto. Non entro nei particolari perché diversamente sarebbe proprio raccontare la trama e non mi sembra particolarmente interessante. Penso, lo dico in seconda analisi, cioè dopo averlo scritto quasi di getto e poi dopo averlo rielaborato tante volte, riscritto, averci lavorato con chi è in scena con me, che è una grande metafora. Grande, non lo so, ma è sicuramente una metafora. Sono ormai due anni che ci lavoro sopra perché c'è stata anche questa avventura che tutti conoscete dell'interruzione dovuta al Covid e alla pandemia che ha fatto sì che invece di debuttare nel marzo del 2020 si è arrivati al 2021 e forse anche più avanti e capiremo quando saremo realmente sulle scene. Però questo ha dato tutto un periodo di decantazione, dei pensieri che devo dire hanno retto nel tempo. e questo mi ha portato anche delle riflessioni sui lavori futuri. Credo che sia per me sicuramente è un lavoro di svolta. Lo è anche perché dopo tanto tempo torno a recitare, sono in scena, sono sulla scena oltre a fare la regia dove ho scritto il testo, interpreto questo testo. Ma non è un caso perché è un testo molto personale, molto, molto, dire autobiografico è sbagliato perché fotografa un'altra parte che non è la mia vita ma è più un'essenza, è più un qui e ora, è più il conflitto che io provo con il mondo attuale e anche nello specifico il conflitto che io provo con il fare teatro. Questo lo devo dire. Con le modalità con cui si può fare teatro che non mi trovano più diciamo così in un luogo d'agio. Tutto si è velocizzato, tutto deve essere prodotto perché questa è la parola che si usa e non creato ma prodotto in un certo modo e questo nel corso del tempo mi ha creato e mi sta creando dei conflitti anche interni e anche esterni. E questo spettacolo parla di questo e vediamo poi sia nella scena che nella realtà che cosa accadrà è un percorso è un come dire anche un augurio anche se lo spettacolo può sembrare uno spettacolo oscuro anche un lungo sogno forse anche incubale ma per me è una storia positiva è una storia d'amore ed è anche una storia di rinascita di ricerca di andare di proseguire di continuare ad andare avanti anche se si parla appunto di sprofondare nel fondo di una voragine ma l'idea è quella di uscirne rinati di andare verso un altrove che non per forza è non fare più teatro ma forse è trovare quella forma o rivendicare o anche la speranza che in un altrove ci sia una possibilità di riagganciarsi a un fare teatro che mi che mi si confà ecco che mi è che mi dà la possibilità di sentire ancora che sto facendo un lavoro d'arte e non semplicemente come dire producendo un oggetto destinato alla compravendita non ho altro da dire questo spettacolo di questo parla e questa forse anche un po' dura come dichiarazione all'interno di un di uno spettacolo ma sono cose che accadono insomma il mondo è fatto anche di questo forse il teatro ha bisogno di ripensarsi una cosa che dicevo qualche giorno fa e poi penso che dopo questa si può concludere posso concludere non avrei molto altro da dire è che spesso e ci ho messo del tempo per capirlo non è stata una cosa immediata il teatro essendo una forma molto antica dovendosi confrontare con questo contemporaneo così potente e invadente sta da molto tempo cercando di adeguarsi diciamo così e quindi di capire come deve essere più veloce come deve essere cosa vuole il pubblico ma io credo di aver maturato questa idea che proprio quello che deve fare il teatro è ritrovare la sua specifica identità e il pubblico che viene a teatro deve cercare quella identità non un'identità che cerca diciamo così sempre di imitare un'altra identità quella del cinema quella della televisione degli audiovisivi una velocità diversa il teatro fatto di meditazione è un'arte lenta fatta di corpi vivi dal vivo può apparire secondo me noiosa ma è solo un'apparenza è che nel tempo a mio parere questa sua rincorsa verso altre forme di imitare altre forme la resa più noiosa perché non è a fuoco non ha una sua identità è una cosa che non ha un'identità non ha una sua specificità non è interessante e quindi io credo che il percorso del teatro sia quello di ritrovare la sua specificità la sua diversità da tutto il resto e cercare un pubblico che cerca quella diversità che vuole quella diversità che vuole stare in un tempo diverso in una narrazione di tipo diverso in una percezione di tipo diverso e che è interessata a quella nello specifico credo che sia un percorso che deve rifare il teatro e che deve rifare il pubblico e che il pubblico e che questa unione sarà aiutata diciamo così dalla messa a fuoco dell'identità di quello che deve fare il teatro che in questo momento a mio parere non lo sa tanto non ha molto chiaro che cosa deve fare